Ciao! Oggi vorrei farvi vedere come creare un fiocco per capelli perfetto per le feste. Potete sia creare un semiraccolto con un piccolo fiocco, che anche raccogliere tutti i capelli in uno chignon. Ho lavato i miei capelli con shampoo e balsamo e rigenere il protegge di Pantene con Smart Pro V, che grazie alla formula Smart Pro V riparano dei danni e rendono i capelli più forti e sani. Ok, cominciamo ora con le acconciature. Per prima cosa spazio i miei capelli e poi prendo due ciocche per creare un piccolo semiraccolto, una mezza coda. A questo punto leggo la mezza coda con un elastico e creo un piccolo chignon, non facendo fare un giro completo all'ultimo giro di elastico, diciamo. Divido lo chignon a metà e lo fermo con delle forcine. Ora per completare il fiocco prendo una ciocchetta dei capelli, la porto verso l'alto e la faccio passare sotto al fiocco. Et voilà, l'acconciatura è finita. Per la seconda variante il procedimento è praticamente lo stesso, solo che comincio facendo una coda alta. Anche qui creo un bun portando i capelli in avanti e creo questo chignon praticamente con un secondo elastico. Divido ora il bun in due e lo fisso con delle forcine. A questo punto prendo la ciocca dei capelli rimasta, la porto all'indietro per completare il fiocco e anche qui la fisso con delle forcine. Et voilà, questo è il risultato finale. Spero tantissimo che vi piaccia, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Vi mando un grandissimo bacio e vi aspetto alla prossima. Ciao!